Arriva un altro convoglio di feriti. Nella nostra camerata entrano due ciechi. Uno è un musicista giovanissimo. Le suore non hanno mai con sé il coltello quando gli danno da mangiare, perché già una volta lo ha strappato loro di mano. Nonostante questa precauzione si verifica un incidente. Una sera durante il pasto la suora viene chiamata via e per il momento depone sul tavolino accanto a lui il piatto con la forchetta. Egli trova a tastoni la forchetta. Se l'avventa a tutta forza contro il cuore, poi prende una scarpa e picchia sul manico quanto più può. Vi diamo aiuto. Tre uomini appena bastano a strappargli la forchetta, i cui denti ottusi erano già penetrati nelle carni. Tutta la notte inveisce contro di noi, tanto che nessuno riesce a prendere sonno. Al mattino lo assale una crisi di pianto. Altri letti si svuotano. I giorni passano fra sofferenze e ansie, fra gemiti e rantoli. La camera dei morti non basta più. Alcuni muoiono di notte anche nella nostra camerata. La morte cammina più spedita che non la preveggenza delle sue ore. Ma un bel giorno la porta si apre di colpo. Entra il carrello e ti vediamo sul lettino pallido, esile, ma dritto e triunfante. Pietro, con tutti i suoi riccioli, bruni e scarmigliati. Sua libertina raggiante lo spinge verso il suo anticoletto e è ritornato indietro dalla camera dove si muore. Noi l'avevamo creduto morto da un pezzo. Si guarda intorno. Che ne dite? E anche Giuseppe deve riconoscere che un fatto simile non l'aveva visto mai. A poco a poco alcuni di noi hanno il permesso di alzarsi. Anch'io ricevo un paio di stampelle per saltellare qua e là, ma ne faccio poco uso. Non posso sopportare lo sguardo di Alberto quando attraverso la camera. Mi segue sempre con due occhi così strani. Perciò qualche volta scappo nel corridoio dove mi posso muovere più liberamente. Al piano inferiore sono i feriti al ventre, alla spina dorsale, alla testa e gli amputati delle due gambe. Nell'ala destra i feriti alle macelle, gli avvelenati dai gas, i colpiti al naso, alle orecchie, al collo. Nell'ala sinistra i cerchi, i feriti ai polmoni, al bacino, alle articolazioni, alle reni, ai genitali, allo stomaco. Bisogna venire qui per vedere in quante parti l'uomo può essere ferito. Due muoiono di tetano. La pelle diventa livida, le membra si irrigidiscono. Ultimi vivono e a lungo gli occhi. Alcuni tengono l'arto ferito sospeso a una carrucola esposto in aria. Sotto la piaga è posto un bacile in cui cola a goccia a goccia il pus. Il bacile viene vuotato ogni due o tre ore. Altri hanno un apparito di trazione fissato a letto con grossi pesi. Vedo delle ferite all'intestino che sono sempre piene di lordura. Lo scritturale del medico mi mostra delle radiografie in cui si vedono ginocchi e anche spalle completamente fracassate. Non si può comprendere come i sopracorpi così orribilmente lacerati siano ancora volti umani. Se quali la vita continua nel suo ritmo giornaliero. E pensare che questo è un ospedale solo. E ve ne sono centinaia, migliaia uguali. In Germania, in Francia, in Russia. Come appare assurdo tutto quanto è stato in ogni tempo scritto, fatto, pensato. Se una cosa simile è ancora possibile. Deve essere tutto menzognero e inconsistente. Se migliaia d'anni di civiltà non sono nemmeno riusciti a impedire che questi fiumi di sangue scorrano, che queste prigioni di tortura esistano a migliaia. Soltanto l'ospedale mostra che cos'è la guerra. Io sono giovane o vent'anni. Ma della vita non conosco altro che la disperazione, la morte, il terrore e la insensata superficialità congiunta con un abisso di sofferenze. Io vedo dei popoli spinti l'uno contro l'altro e che senza una parola, inconsciamente, stupidamente, in una incolpevole obbedienza, si uccidono a vicenda. Io vedo i più acuti intelletti del mondo inventare armi e parole perché tutto questo si perfezioni e duri più a lungo. E con me lo vedono tutti gli uomini della mia età, da questa parte e da quell'altra del fronte, in tutto il mondo. Lo vede e lo vive la mia generazione. Che faranno i nostri padri quando un giorno sorgeremo e andremo davanti a loro a chiedere conto? Che aspettano essi da noi quando verrà il tempo in cui non vi sarà guerra? Per anni e anni la nostra occupazione è stata di uccidere. È stata la nostra prima professione nella vita. Il nostro sapere della vita si limita alla morte che accadrà dopo, che sarà di noi.